A Civitella una più bassa mortalità e morbosità per tumori rispetto alla media regionale. A stabilirlo sono i dati epidemiologici contenuti nella relazione dell'Agenzia Regionale di Sanità. Si tratta di un aggiornamento degli indicatori che rientrava negli impegni assunti in occasione della precedente ricerca. Dall'ottobre 2010 la USLA spiega il Dipartimento di Prevenzione ha promosso uno studio sanitario di popolazione per approfondire le cause di mortalità e ricovero a Civitella. Confrontandole con la provincia di Arezzo e la Toscana. Nel 2013 l'Ars concludeva che i dati e gli indicatori del territorio comunale di Civitella evidenziavano uno stato di salute analogo a quello toscano segnalando però alcune criticità come la mortalità per lucemie negli adulti registrata nel periodo che va dal 1999 al 2007 che appariva in attenuazione ma che meritava comunque un monitoraggio. L'Ars ha così aggiornato il profilo di salute dei residenti. I dati epidemiologici aggiornati mostrano una situazione uguale e tendenzialmente migliore rispetto a quella regionale. La mortalità generale, la mortalità e morbosità per tumori sono più basse di quelle regionali e provinciali sia per maschi che per femmine ad eccezione dello stomaco. La mortalità per lucemia negli ultimi anni è in linea con i livelli di mortalità regionali e provinciali. Per i ricoveri ospedalieri, spiega ancora la nota, le uniche situazioni da segnalare riguardano gli eccessi nelle femmine e nonne maschi per broncopneumatia cronica e malattie cerebrovascolari. In conclusione, il Dipartimento informa che è stato avviato un controllo del monitoraggio biologico eseguito alcuni anni fa nei comuni di Civitella, Rezzo e Casentino per verificare eventuali variazioni nel tempo dell'esposizione ad inquinanti ambientali. Queste analisi sono attualmente in corso. relativa al profilo di salute nel comune di Civitella in Valdichiana è stata pubblicata sul sito internet dell'azienda sanitaria.